Doveva essere una mediateca, invece adesso ospiterà gli uffici ed i dipendenti dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale Campania. Pasquale Basile dell'App Asilo 31 interviene sull'assegnazione da parte del Comune della Mediateca della Spina Verde all'ARPAC. Solo due giorni fa la firma della convenzione con l'affidamento della struttura per 5 anni incomodato d'uso gratuito. Il contrasto con la destinazione originaria di quello spazio che è stato pensato all'interno di un quartiere popolare con una funzione culturale. Un'occasione mancata che certamente stravolge i piani dell'Europa che non avrebbe mai finanziato un progetto per ospitare gli uffici dell'ARPAC al Rione Libertà. I milioni di euro arrivati a pioggia con i progetti più Europa erano per sostenere un'idea, un'idea che è completamente trasformata, è stata stravolta per creare degli ufficetti di un ente che è diretto in città, guarda caso, proprio dalla moglie e dalla consorte del dottore Enrico, oggi candidato insieme alla moglie di Mastella. L'amministrazione Mastella ha da evidenziare una doppia morale, una doppia velocità sulla gestione degli immobili. Si diceva che le associazioni non potevano gestirlo perché non avrebbero mai potuto sostenere il costo di un affitto, oggi invece a distanza di un anno scopriamo che quella struttura viene regalata, incomodato d'uso gratuito, che si diceva fosse illegale, non si potesse più utilizzare per via delle pressioni della Corte dei Conti, in realtà per gli amici di questa amministrazione viene utilizzato con molta scioltezza e disinvoltura.